Dopo essere stata mostrata in Piazza Grande lo scorso giugno, per poi essere benedetta in Vaticano da Papa Francesco e disposta nei Musei Vaticani, la lancia d'oro dedicata al Giubileo della Misericordia è tornata ad Arezzo. Una lancia particolare, non solo nel colore. Per l'occasione l'Elsa è stata forgiata nel bronzo dall'artista internazionale Ivan Timer che ha rinnovato il proprio legame con Arezzo dopo la mosto ospitata all'interno della fortezza. La parte linea invece è stata realizzata dal maestro intagliatore Francesco Conti. Spica questo bianco perché è questo colore delle Misericordie, questo è un desiderio soprattutto dell'artista che ha voluto che la facesse tutta bianca, la parte centrale è tutta in noce, ci sono anche la parte mia che ho realizzato, queste parti più istituzionali, il comune, uno stemma del Papa che è molto significativo per la Misericordia e poi ci sono questi lascemi dorati che si avvolgono con questi colori dei quartieri così simbolicamente moderni e questo è quello che è venuto fuori da questa lancia di quest'artista. Insieme alla lancia che sarà consegnata il prossimo 27 agosto è stato presentato anche il trofeo della 133esima edizione della Giosta del Saraceno, una lancia dedicata a Beato Gregorio X, 184esimo Papa della Chiesa Cattolica dal 1271 al 1276, le cui spoglie riposano nella Cattedrale di Arezzo dove ogni anno il popolo aretino gli rende omaggio con la cerimonia della denazione dei ceri che apre l'anno giostresco. Il bozzetto è stato realizzato da un aretino, l'architetto Roberto Felici da sempre grande appassionato di giostra avendo ricoperto anche il ruolo di consigliera all'interno del quartiere di Porta del Foro. L'idea è nata da amore e passione, amore per questa città e passione per la manifestazione. L'obiettivo era quello di fare una lancia per la giostra del Saraceno che fosse immediatamente riconoscibile, che fosse accolta dagli aretini, disegnata da un aretino e realizzata alla fine da un aretino severa, austera, marziale, come è la nostra città e come è la giostra del Saraceno. Il mio lavoro di creazione è stato particolarmente lastra, ma la difficoltà primaria è stata nel realizzare, come ho detto prima alla conferenza, la parte architettonica, perché non è di uso comune fare un lavoro in scultura in queste dimensioni, anzi possiamo dire in tre dimensioni. Come ho detto, l'architetto ha seguito quasi tutti i giorni il lavoro che io facevo con estrema soddisfazione sua, ma anche da parte mia aveva realizzato, credo, un lavoro non semplicissimo. è stata una bella gratificazione, io ne ho fatte tante, ma questa mi ha dato forse un impegno più di tante altre.